Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, se vi state chiedendo dove sono finiti i gameplay, presto arriveranno. Soltanto per adesso ho voglia di registrare delle recensioni. Quando ho deciso di farmi la mia attuale postazione e quindi acquistare un monitor principale per uso gaming ed editing, andai su Amazon e di do' un'occhiata a quale monitor facesse al mio caso. Scorrendo mi sono imbattuto ad un 21 noni 29 pollici full HD, cioè 2560x1080 60Hz. Vedendo il prezzo, era alla mia portata, dato che non volevo vendere un rene per un monitor e quindi decisi di acquistarlo. A distanza di circa un anno, ho deciso di parlarvi di questo monitor, che potrebbe far caso vostro, cioè del 29UM58. Come detto prima, un 21 noni 29 pollici wide full HD IPS. Iniziamo con il design, che secondo me è un aspetto da considerare in un monitor. Questo in particolare ha dei bordi di circa un centimetro, come potete vedere ha la stessa altezza del 24 pollici, sempre LG che utilizzo come secondo monitor, ma si prolunga di altri 20 centimetri come da particolare dei 21 noni. Vi mostro un breve unboxing e dentro la scatola troviamo un cavo HDMI all'alimentatore, la base per appoggiare il monitor sulla scrivania e giustamente il monitor. La base è divisa in due pezzi e tramite una vite posta nella parte sottostante possiamo agganciare la parte verticale che si aggancia al monitor con la base stessa. Dietro il monitor troviamo un attacco VESA, dove ho attaccato il braccio fissato al muro, così da avere molto più spazio sulla scrivania. Due entrate HDMI, una per inserire il mini jack sia per le cuffie che per le casse esterne. Attenzione ragazzi, il monitor non presenta casse interne, se si vogliono delle casse bisogna prendere il fratello maggiore, il 29UM68. Quindi ho connesso il mio pc tramite HDMI e sono riuscito ad arrivare a 65 Hz senza nessun problema. Parlando di Hz passiamo al reparto giochi. Il formato 21-9 è perfetto per i giochi di simulazione auto come ad esempio Assetto Corsa, che ci dà una visione molto ampia dell'ambiente circostante. Oppure altri giochi come Minecraft, Black Ops, Battlefield 1, eccetera. Passando al lato lavorativo, utilizzare programmi di editing video per questo formato ti aiuta a gestire molto meglio sia la timeline, l'anteprima e le varie finestre, così si ha molto più spazio per lavorare. Con Photoshop l'interfaccia è molto più ampia e quindi hai bisogno di più spazio per l'immagine che devi editare. Anche la normale navigazione a internet ti fa notare la differenza con un 16-9. Per esempio quando cerchiamo un'immagine su Google vedremo molte più immagini con un 21-9 che con 16-9. Riguardando i video non tutti si vedranno a schermo pieno, ma vedremo delle bande nere ai lati, ma per gestire questo difetto esistono plug-in per sfruttare a pieno il monitor, allargando l'immagine. Come qualità prezzo lo consiglio vivamente per una persona che non vuole spendere molti soldi e vuole un buon monitor. Soltanto non so se è un difetto del mio monitor o no, nella parte bassa la cornice è sempre un po' distaccata dallo schermo, ma non ho alcun tipo di interferenza o pixel bruciati. Quindi non posso che consigliarvi questo monitor, se volete acquistarlo potete farlo dal link qui sotto in descrizione. Sempre in descrizione troverete tutta la mia attrezzatura sia per registrare questo video che per editarlo. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, spero vi sia piaciuto questa tipologia di video con la mia voce e il video che scorre. Quindi ragazzi per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!